Grazie Grazie Un po' Sinistro Adesso sinistro Cerca di appoggiare in maniera simultanea Trovo un po' Ancora Ok Qual è il problema? Prova a battere con me Ecco, va a dire che batti le mani quando i piedi toccano per te Qual è il problema? Vittorio Quello è il ritmo che fai in piedi Non va da potenza Grande Questo è il ritmo Non è Riprova con questo ritmo Perfetto Prova dai Abbastanza bene Stiamo lavorando sulla sequenza e non sulla coordinazione delle braccia Adesso ci arriviamo Ok Vediamo cosa fanno le braccia Durante questo ritmo Allora quando io Metto il piede sinistro Avanzo solo con il braccio destro Da questa posizione qui Le braccia Prima che le gambe e i piedi tocchino il terzo scalino devono essere dietro Poi da questa posizione Poi da questa posizione andrò su qui non lo facciamo perché se no andiamo a sbatterci Ci fermiamo solo con le braccia giù Pronto 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 Bravissima Ancora Semplice però dobbiamo fare bene Pronto 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 Nel mio Anche appoggio sul terzo escalino le braccia devono essere più dietro al pulsante, bravissima, questo è il movimento, è semplice, fa pallone, dai, via, bravo, dai, vai, molto bene, prova a triana, primo, va, il primo, vai, ritrova, fermati il piede lì, piegati il braccio qua, stai versato, questo, questo, adesso, adesso, ehi, non fa già bene, no, però vedete che è normale che sia così, è molto contratto, no, quello che dicevamo prima, ancora, ecco, ehi, dietro le braccia, dietro le braccia, attenzione perché te, da questa posizione delle porte, un po' avanti, e poi viene, dice no, subito dietro, subito dietro, no, adesso che ho fatto bene, riprovo, dai, subito dietro, bravissima, chiaramente se ci sono, ritorniamo qua, eh, se ci sono degli scalini di seguito, lo possiamo fare, anche in seguito, prima che lo insegniamo, no, praticamente, ma invece, farlo, una volta solo, lo possiamo più volte, che sostanzialmente, diventa un po' di ricotta, adesso, prima avete fatto solo la ricorsa, adesso, avete visto, qual è la coordinazione delle braccia e della ricorsa, adesso provate a fare la ricorsa con la coordinazione del braccio giusto, sono tutte le braccia, adesso, sicuramente, Ok, per un attimo ci devono mettere un metro da linea, un metro e un metro. Il primo passo è prima da linea da taglia. Il primo passo, per esempio la ruota è sinistro, vi avanzo solo per il braccio destro. Ok, poi il secondo passo è sinistro verso il centro. E poi facciamo. Vediamo. No, è più facile. Sinistro verso il centro. Sinistro e il centro. Sinistro verso 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 il centro. Ok, che fa� giusto. S Wherever startata attuare i sinistro verso il centro è tutto il centro. Quindi è bene, ovviamente sinistro verso il centro. E' bene, ovviamente ma bo te sono szeci. Parogravo, che adesso sono szeci. A chi awarde sono tutto il centro nelle attraccionali. Un poichino di due. Sinistro, trazione di due. Sinistro, trazione di due. Sinistro, trazione di due. Non è comunque lungo, come una parata della ragazza. No, tutto è giusto, non è giusto. No, bravo. Poi due. Dava, dottore. Dava, bravo. Capito sta parlando. Poi, non è un'occhiamento. bene buona volta fare l'esercizio che facciamo il processo tre passi e poi partiamo uno 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 e uno e prova si va a prendere due volte certo prova in questo momento che cosa sta facendo sta idealizzando il movimento e cominciando a corregirlo però è importante che lo conosca bene perché non può fare bene il suo conoscimento è una strada giusta eh prima esercizio io che ho fatto quindi primo passo è parte che abbiamo a finito primo passo avanza 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 sì sì Grazie. 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 Guarda, ti spiego quello che dico a dire. Se è arrivato a questo, fa quello che viene in posizione anche con questo. Lo dico al mio spettacolo. Brava, brava. Molto bene. Molto bene. Adesso, ecco, andiamo cominciando alla grata. Per voi c'è un po' di confusione, perché cose sono tante che bisogna fare un po' la cosa, le potenze che stiamo facendo tutte per far vedere un po' le esergenze. Però quest'ultima cosa che abbiamo fatto, adesso andiamo a lavorare, è la cosa più importante, per cui non ve la dimenticiamo. Adesso immagina, Anna, che ricevi la palazza senza una cinta, immagina che fai un bagger, no? E poi la schiacciata, ricevi la palazza di me e la schiacciata. Passiamo un po' di qualze. Grazie. 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 la sua esce, esce, si vuole esce, e la gara, brava, brava, un po' di posto, brava, la gara no, la gara, la gara, così, vedete come è importante, come potrebbe avere anche questo pollo di qui, in questo modo, ma è questa, questa, molto bene, ben accesso con il capetto, avvicini di una palla di una 5, e va a schiacciare, ok, larga un po' la gara, cerca di, immagina di schiacciare il piano, se puoi, all'altra gara un po', vai, larga un po', esci, esci, avvicini di una palla, dai, vai, esci, esci, vedete come hanno risolto un'altra gara, e poi, no, se vanno di riescono quando gioca, tra l'altro, non dovrà essere le 14, se non gli fanno le 6 sono situazioni che si trovano allora, allora tu, ti dicevi la palla, no? Poi ok, se devi guardare la gara, ti devi sentire, quindi devi guardare, ma quando sei qui, sinistro, desto e sinistro, E' molto facile, guarda la cosa, da il ritmo che dicevamo prima, no? Questo lo devo ripetere, lo faccio, lo devo sentire, no? Esco, e poi giriamo un punto sinistro, destra e sinistro. Ecco, provi a fare il punto di vista, ma quando hai tutti i piedi, no? Cioè, tutti i due passi, quando metti sinistro, devi dire sinistro, quando metti destra e sinistro, devi dire destra e sinistro. Bene, dì la vociata che sentiamo, ecco, l'ho fatto io. Dai. Bravissima, bravissima, intanto ci sono solo 40 persone che mi fanno. Se fossimo soli di te. Prova, dai. Te fai più caldo. No? Questa è una braccia, brava. Ecco, questo vi è tutto avuto, eh, perché sennò ti guardate i piedi, i piedi dovete sentirmi. Prova caldo. E' abbastanza bravo. Sei quella di piedi, eh. Dice, devi sentire. Diploma. Vai, guarda bene. Guarda bene. Senti i piedi. In realtà, quando devi guardare bene, cosa devi guardare? La palla. Non devo mai perdere in vista la palla. Quindi, io dicevo la palla, non posso guardare i piedi. Perché devo guardare la palla. Vai, vai, la palla. Molto bravo. Vai, Francesca. Senti i piedi. Sei guardando i piedi, eh. Guarda la palla. Senti i piedi. Vai. 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 Senti i piedi. Senti i piedi. Dopo un po', no? Ci lavorano gli dieci. Vai per loco. Tocca a te. No. Vai. Ripai. Dai, viene. Vieni. Tocca a te. Prima. Braccio di l'uomo, la palla. Vieni. Laci un po' la palla. Vieni. Vieni. Mi lanci la palla. Laci fate il tag, eh. Se perciò il piede. E poi la d'attaccare. Dovete guardare la palla, eh. Continuate a chiamarvi i piedi a parlare sui vostri piedi. Dai. Guarda la palla. Guarda qua. Ok. Guarda qui. Magina che interazzo la palla. Guarda. Hey, l'esercito sui cibo, eh. Puri. Grabbada. Bravisti. Bravisti. Guarda qui. Guarda. Guarda qui. Aspetta a mangiare. Angla che corregge una cosa. Lo spari così. Regassa la zazienda. Così. Senti moving i stifiani, ti fiorà la palla. Dai. Va' beh. Vieni. Vieni. Una volta. guarda la patra, guarda la patra vai, dai con cesta vai guarda la patra, eh come difficili piano vai spuscavi e sposti cruzi vai ragazzi, ma conto bravo guarda la patra subito, eh dai con caccarlotta ok, con Francesca ok, bravo, molto bravo adesso proviamo a partire la rete vai Francesca sei la rete, no? non muri, ma diventa la patra ricordati una cosa devi andare un metro e mezzo dietro la linea da tasto quando ci sei spalla i piedi sinistro nella giugno ok? ti provi vai ok? si molto bene però qua più con il piede sinistro sull'alberto per la posizione parte e in un momento di distanza non 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 vai ok abbastanza bene solo per andare indietro cioè indietro no? vedete prima della linea data questo è dai indietro, indietro, indietro indietro, indietro, indietro una miscita da miscita perciò se ci scegla di un piano poi ripartiamo senza un paio dai veloce 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 e devi mettere il sinistro prima dell'arrivo all'attacco ok, bravissima adesso dobbiamo fare anche la palla Francesca va lì Carlotta, anzi no, manda l'appoggia un po' di qui eh e prima che la palla mi arrivi alle mani devi, anzi facciamo così quando tocco la palla devi mettere il sinistro andiamo qua qui stiamo la franca di superiore guarda, bravissima ok, molto bene adesso la dai a Carlotta e ti fai vai vai, vai, vai buavissima molto bene, adesso la dai a Francesca e fa a Carlotta guarda in questo modo lo lavoriamo anche per poter puntare bene sapete, in questo caso no, è con una palla spinta normale che sia una palla buona vediamo un po' il palla, adesso mi è piaciuto adesso mi è piaciuto vai, ehi i gomiti vicini e i bianchi ma no più precisa la devi aggirare vediamo che facciamo facciamo tutto vai, precisa ok questa è la Carlotta questa è la palla vai adesso adesso da lì partiamo dalla solita posizione di Francesca adesso da lì partiamo prima immagina qui c'è un palliacatore di qua alza una palla di una palla e tu fai di Carlotta che è zona 6 l'azione è continua Carlotta che è zona 6 inferiore la strenciata di loro della squadra e qui tu che fai? che esci prendi la ricorsa dove stai girando? verso la palla perché cosa devi guardare? allora ricominciamo qui parti da qua ci sedi eh? immagina la cosa lo sviluppo della vicino di pace pesa vai, trovaci ora cosa è un quarto? la palla vai rifacciamo vai 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 pesa guarda la palla guarda scherzata super con capire parla spioniamo ecco la palla per spioniamo come succede no? seivene no in prima vado 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 r7 dai parlo Un bel gioco, è un bel gioco, non lo so. Bravo. Ok. Ma è capito, no? Si vede, resto. Ok. Ok. Francesca, provo girare con la gioco, però. Questa gioco è un gioco. È molto buceo, nel gioco. Aprire questo basso, a basso, a basso, un basso. non passo non in boccia non passo non in boccia questo è il primo tempo apro incrocio dai dai provo primo passo apro incrocio potrei guardare e qui non puoi riprovi vediamo vai lì vai guarda 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 molto bene provo a posizione incrocio braccio v riprovi ok vai 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 guarda come ho adesso sp� guarda ruot vai 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 bravo Vai bravo Facciamo un po' Bene Vai Guarda 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 Tutto bene Ok Il sinistro devi mettere prima la linea ad attacca Va bene Ok Dico una cosa a loro 30 secondi di spazio Avete visto come Possiamo già In riscaldamento Questo mi frega molto Fa arrivare il pulsante Perché in questo In questo periodo C'è C'è Come il corpo deve essere Rilassato Nel riscaldamento Queste cose Non avevano un'intenzione Corretta E allora Il riscaldamento È un momento Di grossa possibilità In questo periodo Dopo questa situazione Della prima E quindi è importante Utilizzare gli scaldamenti In questo periodo Per fare Le esercitazioni In cui da un secco In movimenti di gioco No? Possono essere Posso essere Posso essere Difesa Posso essere Il muro Posso essere Per andare A una legge Particolare Per esempio Le tecniche In questo periodo In questo periodo Ho Un'errore 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 tra l'attaccante, il vertice, il croce, le linee e questo deve essere la direzione in forza però è la direzione perché non sempre questo è possibile e quindi andiamo a generare il giochino con quello che abbiamo fatto così cambiamo facciamo una fine intorno a sé adesso dovete chiamare ricevere la palla e poi vi dite dove gli altri attaccanti io ve la alzo e voi la fermate se volete la potete anche schiacciare così diretto spero che c'è più dai, veniamo, proviamo un po' capito? si, si, provo alzata sarà un po' così ma dai, si e andiamo, dai va bene vai ecco quello che prima metto il sinistro nel momento che io tocco la patra riprovate e andare un po' più veloce vai 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 capire eh dove vuoi metto la destra metto il sinistro nel momento che il paleratore tocca la patra il suo destra non è un gaggio metto il sinistro per clever metto il sinistro parco 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 arco parco 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 perché quello che dice è giusto, ma non sempre c'è tempo per, non lo possiamo complicare, provo a lanciare dei palloni anche corti, con le linee che mettono un po' in difficoltà. Allora, andiamo avanti. Adesso proviamo sul posto a eseguire il movimento che dicevamo prima di fare il cambio dei bracci. Quindi, quando stiamo appoggiando i piedi a terra, le braccia sono lì, poi c'è una distensione delle braccia e il cambio dei bracci. Provate un po' a farlo. Vai, ancora. State attenti a questo elemento qua. Il braccio sinistro salva, ok? Il braccio destro salva. L'altro braccio, quando il corpo arriva alla spalla, lo carico, che la mano si muota e devo caricarlo esageratamente, non qui, no? Ma devo girare tutto il gusto, metterlo ben in forzionato, sentire bene il cambio dei bracci. Proviamo. L'altro braccio. L'altro braccio, metterlo ben in forzionato. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Adesso facciamo la stessa cosa. Quindi stiamo braccio dietro, no? Partiamo dietro al vero e andiamo a caricare. Prima che i piedi si stacchino la terra, il sinistro è alto e il testo deve essere arrivato sulla spalla per iniziare il caricamento. Proviamo? Allora, andiamo molto bene. Vai Carlo. Molto bene, ricordi che ci puoi mettere il braccio, eh? Ancora? Dai. Facciamo dieci, eh? Provate. Allora, va bene. Bene. Ma mai avete, sapete quando fate delle, eh? Statici attenti. Va bene. Allora, va bene. Dai, stai facciamo la trinieri si la ricorda. guardate questa rivolza però non deve fare questo nuovo vieni va bene la rivolza no, no, fa una rivolza però il movimento finale che interessa è quello vieni bravissima, bravissima dai bravissima Allora venite qua, mettiamoci in tre punti diversi, l'uno da un'istante sulla linea bianca. Adesso, prova a andare a caricare il braccio, quello che c'è prima, faccio il tuo braccio e la prende, ah, lo dicevo, dai, prova, per un marino, facciamo questa posizione di contatto adesso, partiamo da questa posizione, cioè non dobbiamo preoccupare il movimento delle braccia, partita lì, adesso speriamo cosa devi fare, il sinistro non scende dentro il corpo, così, e il terzo lancio, che prima lo proviamo senza lanciare, solo dove metto, dieci volte, poi dopo lo proviamo a lanciare, la facciamo, prova, prova, sinistro scende, bravissimo, bravo, sinistro, ok, bene, molto bene, Vai Francesca, prova. Vieni, facciamo la prova. Guarda, facciamo la prova, e vai semplice, bravo. Bravo, 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 bravo. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Vai. 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 Ok, molto bravi, grazie per l'aiuto, diamo un applauso.